Questo weekend Foggia si colore di solidarietà con la manifestazione di beneficenza Notte a Colori organizzata dall'Associazione Fratelli della Stazione per sostenere il dormitorio per senza fissa dimora della parrocchia di Sant'Alfonso di Liguori e per riflettere sul tema della povertà. Domenica 25 giugno presso il Chiosso di Santa Chiara dalle 19.30 alle 23 riflettori accesi sul dormitorio che necessita di alcuni lavori di ristrutturazione per migliorare la qualità dell'accoglienza degli ospiti che ogni giorno trovano riparo per la notte. Una struttura allestita da più di tre anni insieme alla Caritas Giuseana di Foggia e Bovino che solo nell'ultimo anno ha permesso ad oltre 400 persone, differenti italiani e migranti di poter accedere ai 26 posti letto, comprensivi di docce, bagni, riscaldamento e colazione attivati nei locali della parrocchia di via San Severo. Una realtà che è mossa da una sinergica rete di solidarietà avviata negli anni grazie all'impegno attivo della fondazione che oggi porta il nome di Monti Uniti di Foggia e di una serie di realtà associative che hanno consentito l'apertura e l'attivazione del dormitorio per poi strutturarlo meglio attraverso la convenzione tra la Caritas Giuseana di Foggia e Bovino e l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Foggia. La manifestazione sarà animata da teatro e musica e culminerà con la consegna di un riconoscimento agli amici del dormitorio. Si tratta dell'ex presidente della Fondazione Banca del Monte Saverio Russo, del direttore della Caritas Don Francesco Catalano e del sindaco Franco Landella. L'ingresso è su invito. L'intero ricavato sarà devoluto al dormitorio per senza fissa dimora della parrocchia Sant'Alfonso.